San Teodoro, sono le 19.58 e non c'è un'anima, solo Matu e io. Incredibile, questo in estate è pieno, pieno, pieno zeppo di turisti e qua non c'è nessuno. Solo rimane un po' del presepro che hanno fatto, che ancora non lo hanno tolto. Ecco, sa veniva una macchina, attenzione. Una, vabbè, è andata dall'altra parte, ma non c'è nessuno. Ah, questo era il presepro. Sì, però guarda là. Ah, ho capito, c'è il fuoco solo acceso. No, però guarda là. Sì, l'ho visto, l'ho visto. La Vergine. La Vergine. Ma c'è il bambinello ancora? No, non c'è il bambinello. Tutto chiuso. La varca. La varca. La varca da sola. Tutto chiuso. E somma. Le otto. La verginello. La verginello. La verginello. Grazie a tutti. tutto vuoto e le campane sono finite le 8 le 20 di sera noi abbiamo fatto la cena abbiamo cenato da rosetta e adesso stiamo andando alla casa di matu e nel frattempo non c'è nessuno un'altra strada vuota